Ci troviamo nella mensa scolastica della scuola media di Ordona. Una normale ragazza sta mangiando le sue patatine, mentre viene interrotta da un bullo che inizia a prenderla in giro. Ehi tu, cosa? Come ogni giorno sei vestita di merda? No, ma le mie patatine... Ma ti senti stato che c'è grassa, togliendoti le patatine che abbiamo fatto solo un piacere. Mi so abilare e ci ho fatto la fisica, ma non mi riguarda. E tu cosa sei l'avvocato delle cose perse? Sì, infatti, e questo è stato che tu... Appena finite le lezioni, Ryan e Rita si dirigono verso la vittima. La vittima, però, è in compagnia della preside. Buongiorno, signora preside. Ha da dirci qualcosa? Sono estremamente delusa dal vostro comportamento. Le vostre compagne mi hanno informato della scena di oggi in mensa e delle altre già venute. Dopo tutte le ore di educazione civica che abbiamo fatto, voi cos'è che fate? Davvero sono delusa. Oltre ad aver creato scomforto ad Angela, avete anche delusomento. Scusi, e poi preside, io non ho fatto niente, è colpa di Rita. Rita ha fatto tutto. Nonostante ciò che avete fatto, nemmeno ti prendi le tue responsabilità. Scusami Angela, scusami veramente. Non volevo prenderti in giro.